Ciao e benvenuti in questo nuovo video tutorial dedicato alla tecnologia. In questo video che cosa ti farò vedere? Ti mostrerò due metodi, entrambi funzionanti, che ti consentiranno di trascrivere sotto forma di testo qualsiasi audio di qualsiasi video YouTube. Si tratta di due metodi funzionanti sia su MacOS che su Windows, molto semplici da utilizzare e che utilizzo personalmente anch'io. Prima però di andare a vedere la procedura passo dopo passo, mi raccomando se non l'avete ancora fatto, questo è il momento di iscrivervi al mio canale, lasciare un like e attivare la campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi contenuti. Allora, andiamo a vedere due metodi per trascrivere sotto forma di testo qualsiasi audio di qualsiasi video YouTube. Andiamo! Allora, il primo metodo che vi suggerisco è quello di utilizzare questo servizio online, ovvero quello che trovate nel sito antiago.com slash trascrittore. Il link lo vedete qua sopra, antiago.com slash trascrittore. Come funziona questo servizio? Come vedete, intanto vi vengono suggeriti anche altre tipologie di linguaggio, in questo caso io ho selezionato l'italiano, qui mi viene indicato di incollare l'indirizzo del video YouTube che voglio trascrivere, per cui vado a prendere il mio video YouTube, seleziono la voce Condividi, copio il link, vado su Trascrittore, incollo il mio video e seleziono Trascrizione. Aspetto qualche istante e voilà, ecco qua l'intera trascrizione a video. Ovviamente, come vedete, possiamo dire al sistema di rimuovere eventuali simboli come gli asterischi oppure direttamente copiare la mia trascrizione da riutilizzare come testo dovunque io desideri. Secondo metodo. Secondo metodo invece si avvale di una funzione integrata di YouTube, ovvero, osservate bene, no? Subito sotto il player di YouTube, qua, sull'estrema destra, di fianco alla stringa dedicata al mi piace, al non mi piace, al condividere, ci sono questi tre puntini. Se io seleziono i tre puntini, mi comparirà la voce Mostra Trascrizione. Quello che dovrò fare non sarà nient'altro che andare a copiare tutta la trascrizione, quindi mi posiziono qua in basso e con il mouse seleziona tutto il testo fino qua. Control C o Command C perché questi due metodi funzionano tranquillamente sia con Windows che con Mac OS, a questo punto avrò la trascrizione testuale disponibile. Ma ovviamente, come avete visto, ci saranno gli orari e sarà frazionato questo testo. Immaginiamo invece che io voglia un testo pulito e non voglia modificarlo io a mano per accorciare i tempi. Posso avvolermi dell'intelligenza artificiale, quindi io vado ad aprire il mio chat GPT di OpenAI e vado a dirgli correggi la ponteggiatura di questo testo trascritto da un audio YouTube ed elimina anche le voci relative agli orari. Due punti a capo. Incollerò la mia trascrizione, eccola qua con i vari orari, vediamo come si comporta l'intelligenza artificiale. Invio. Ecco qua il risultato. Guardate come si sta comportando l'intelligenza artificiale, mi sta trascrivendo esattamente il testo che avevo incollato prima, ha eliminato gli orari e mi sta correggendo la punteggiatura. Questo ovviamente vale anche se io utilizzassi antiago.com trascrizione, anzi, trascrittore, scusate, ovvero posso copiare la mia trascrizione, vado su chat GPT, lo interrompo, vado ad incollare la trascrizione, vedete che è un unico blocco e prima della trascrizione ti dico esattamente la stessa cosa. Per favore, correggimi la punteggiatura di questo testo estratto da un video YouTube. A capo, vi do invio, vediamo come si comporta. Ecco qua, anche in questo caso, chat GPT sta perfettamente correggendo la mia punteggiatura. Al termine del suo lavoro potrò utilizzare il mio testo trascritto perfettamente. Come visto, la procedura è molto semplice, i metodi funzionano entrambi, quindi state a scegliere quello con cui ti trovi meglio. Direi che siamo arrivati alla fine di questa guida. Andriamini alias dot zivago vi saluta e vi rimanda al prossimo contenuto sulla tecnologia. Ciao, a presto.